E' arrivato anche il momento della festa per le associazioni in festa. A tre mesi dalla dieci giorni che ha animato la vita del Parco Castelli, è arrivato il momento di festeggiare i grandi risultati ottenuti grazie al lavoro di tanti volontari. Una serata tutta per loro, organizzata alla Canoea, per ringraziarsi vicendevolmente e condividere oltre alle fatiche anche la gioia di ritrovarsi e stare insieme. Tanti volti di una squadra straordinaria, composta da quasi 200 volontari. Ma è anche il momento per rendicontare i favolosi risultati ottenuti in questa tredicesima edizione della festa delle associazioni, che ha ottenuto un guadagno netto di ben 50.000 euro. Un record ed un risultato economico impensabile, considerato che due delle dieci serate in programma sono state funestate dal maltempo. Serate in cui i volontari hanno fatto letteralmente fuoco e fiamme. Fuoco e fiamme, vero, però ho una grande soddisfazione. Stasera sono veramente orgogliosa della mia associazione, che è la Proloco di Monpiano, e di tutte le associazioni che partecipano, perché abbiamo davvero tanto ancora da imparare, ma abbiamo fatto davvero un risultato incredibile quest'anno. Hai ragione, nel senso che non solo dal punto di vista dei soldi, perché comunque 50.000 euro sono tanti, ma anche dal punto di vista umano, perché questa è una festa dove interagiscono tantissime persone, tantissimi pensieri, e questo è il fare comunità, fare rete, è la cosa più bella che ci sia. Sono 27 progetti di altrettante associazioni che quest'anno si sono divisi a vario titolo il contributo frutto del lavoro dei volontari, progetti nel quartiere di Monpiano, ma anche all'estero. Dall'ampliamento della scuola Nicolaievca, costruita dagli alpini a favore dei disabili, al restauro della Cappella di San Cristoforo nella chiesa di Sant'Antonino, dai progetti delle suore missionari in Africa a quello dell'UNESCO Malaria in Ghana, portato avanti dal professor Castelli. E ancora l'acquisto di una handbike per promuovere lo sport per i disabili, aiuto alle famiglie in difficoltà sostenute dalla Caritas, i progetti nelle scuole del quartiere, e il sostentamento all'orfanatrofio Casa Marisa di Chichase in Congo, dove vivono 130 bambini in attesa di adozione, passando poi per il sostegno volontario delle autoambulanze. Questi e tanti altri progetti sostenuti. Sono progetti tutti interessanti, poi è chiaro che ogni associazione ha un suo progetto che porta nel cuore e noi abbiamo voluto condividere con questa associazione, abbiamo dato appunto la possibilità di avere a tutti e 17 i progetti il contributo e spero tanto che siano contenti, però la dimostrazione è che questa sera siamo in tanti, quindi sicuramente lo sono. Premiazione alle associazioni, ma anche ai volontari stessi, dai più giovani e più anziani del gruppo, un modo di riconoscere a tutti il ruolo importante svolto. Marina Rossi passa fra i tavoli, cogliendo l'occasione per rappresentare anche i vari reparti operativi per il funzionamento della festa. Dai baristi ai pizzaioli, dai cuochi alle cassiere, dai camerieri ed accoglitori dei rifiuti, per una differenziata arrivata al 93% del riciclaggio, fino alla squadra di gestione degli standard dell'associazione. Tanti compiti da svolgere, tante le cose da fare in una festa di queste dimensioni, capace di contare una media di 2000 presenza serata. Un gruppo che sta vivendo una fase di rigenerazione anagrafica. Lo stare insieme è la cosa più importante, di fatti, come dicevo prima, è la comunità, e questo è importante. Io voglio ringraziare tantissimo anche tutti i giovani che prestano questa opera di servizio, però con uno scopo anche loro umanitario. Sono bravissimi, educatissimi, e sono davvero in tanti, perché noi abbiamo tutte le sere praticamente 40 ragazzini, ragazzi.